35esima edizione del Torino Film Festival, sono Mattia Bianchini, questa è Fred Film Radio e siamo in compagnia di Jun Tanaka che presenta la sua opera prima in concorso BAMI. Benvenuto Jun. La prima cosa che volevo chiederti è da dove nasce l'idea del film e come ti sei approcciato a questa, come hai deciso di svilupparla? Buongiorno, buongiorno, ma io non sono i nostri spettatori, ma io non sono i nostri spettatori Allora, quello che devo dire innanzitutto è che noi non avevamo budget, quindi c'era la necessità, appunto, con pochissimo budget, quindi con uno staff limitato e con dei mezzi tecnici limitati, di realizzare un lungometraggio. È molto interessante nel film come mescoli molti elementi dei film di genere e questo film è difficile catalogarlo all'interno di un filone. Tu come lo descriveresti? Come appunto lo presenteresti, il tuo film? Come appunto lo descriveresti, il tuo film di genere, come genere, anche in realtà come dinamiche, proprio come a livello sia narrativo che visivo, come genere, in linea generale. Churro, storie, visuale, of course, sui' Spider-mi, è un'interteintmento che dov'è? altri film che io adoro è la Trilogia, uno, due, tre, e quindi quando io ho creato questo film ho pensato, ho voluto creare una forma di intrattenimento come quella. Nel film si crea un particolare triangolo tra i tre personaggi protagonisti. Volevo sapere come hai lavorato nella costruzione di questi personaggi e che cosa volevi che comunicassero e che cosa volevi che ci fosse a tutti i costi in questo rapporto. E' cite se, due le due loro di vista andaccare, è che vogli dare avere una cosa che attraversa attraversa la vostra in questo caso? Volevo sapere come un tagli, sconos, come un'accare di essere unング Poste? Viola, sconos, scono ma un'accare di essere escheato. Toi cramente, erano, noi ci sono un'accare di l'accare di attraversa che fare le sostengono. più una cosa. Ci sono tre cose che facciamo, è la principale del film. Sara? Io penso che all'interno di un film, il triangolo sia proprio qualcosa di standard, necessario all'interno di un film. Quindi c'è una coppia, in questo caso una coppia uomo e donna, ma può essere una coppia qualunque, e ci vuole un terzo elemento che in qualche modo disturbi e faccia vacillare l'equilibrio della coppia. La struttura che ho voluto dare al mio film è che c'è quindi questo triangolo, e oltre a questo triangolo c'è il filo rosso del destino che è simbolizzato dall'ombrello rosso. Esatto, molto molto interessante. Grazie mille Jun, in bocca al lupo per il film. Ricordo che il film è Bami in concorso, siamo alla 35esima edizione del Torino Film Festival, e questo è Fred, The Festival Insider. Grazie mille. 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 Grazie mille.